Ho anche un vero sesto senso per la borsa e per gli affari Non hai neanche una sola possibilità di diventare vicepresidente Io ti vorrei ma il mio socio purtroppo no Per il ciclo Funny Friday, Funny Money, come fare i soldi senza lavorare Sto mettendo a punto uno scherzetto davvero meraviglioso Stasera alle 21.10 sulle 5